Ciao a tutti, questo nuovo video qui Mirko, Federico, Alessandro e Riccardo Ok, comunque ragazzi, come potete vedere, siamo su un gioco horror Ci avete consigliato durante il tempo, veramente tantissimo horror Come avete visto, ultimamente stiamo pubblicando pochi video Comunque dicevo, come avete visto, ultimamente stiamo pubblicando pochi video Perché non abbiamo tantissimo tempo Però Riccardo, tu sei negro E comunque, ritorniamo alla grande con un gioco horror Iniziamo Una volta per uno, dai raga, inizio io Ma aiuto Iniziamo 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 Non parte Perché non parte Eccolo Eccolo, è partito Ok raga, iniziamo, ci troviamo in una stanza con Con una torcia, un letto Ah, con Wast si può muovere? Sì, con Wast Innanzitutto, lo scopo del gioco, ragazzi, è pente Ah, che culo, intanto, è trovare robe Cazzo, fai E trovare questi sacchetti Che sono appunto Tipo slender E' ad esempio slender Il problema E' che c'è Invece che lo slender Intanto, ho già due mortaggi Prende, c'è un tipo Che ti insegue Oh, una chiave Una chiave a casa The basement key phone Basement Che vuol dire Non trolla bene Vabbè Push the door Tuo bene Pressm tu Si mappa Non mi piace Assoluto Allora Un orologio Allora Eccolo Non ti girare così No, non so Tascala, no Porta sfiga L'ho fatto L'ho fatto Cleme Allora Regà, qui c'è un pianoforte Non vedo sacchetto Ecco un sacchetto Comunque Bisogna provare Stisa Questo non è sacchetto, però No, è soltanto Un portacenere Che è sto qua Ah, è quello C'è Press Poi vedere dove sta Ah, prendi Io vedo con gli occhi Del tipo Stai un sotto Merda Io ci sto sotto No, stai un sotto Stai un sotto Stai un sotto Quanti piani so Regà Mettete subito Mi piace Oh, cazzo Mettete subito Mi piace Perché Ho paura Ah, scappa Magno Magno Otti Gioca prima te Bene, ho preso tre Quattro sacchetti Quanto ha preso Ah, si può pure Cambiare difficoltà Vabbè, adesso Dato che gioca Riccardo e Alessandro Io metto difficoltà Io metto difficoltà Difficile, regà Perché loro Li vogliono No, no, no Luca A me È difficile No, no Io non gioco Dove giocare solo io Non mi sto cagare Ma allora a sto punto io Ti prendi i sacchetti? Ti prendi i sacchetti? No, non li prendo Devi prendere Se no non vinci Vado direttamente Io non c'è stavo No, regà per me adesso Lo trovo solo No, c'è scritto Grand Uno Oh, no Uno Tac Tac Big money Ma quant'è grassa? Quanto è grassa? Quanto è grossa? Quanto è grossa? Quanto è grassa la pianta? Stai solo al secondo piano Cazzo è un frigorifero Look at the find the combination Eeeh, pure è combination E combination Poi no, le combination No, c'è una qualcosa sul suo scosso Davvero C'è una qualcosa sul suo scosso Su mobile Mobile Qua, oh, si può aprire Ciro Regà, la pizza La pizza Non è la pizza Non è la musica E un occhio Ecco, vediamo Scappa Scappa Oddio, che è scritto scappa Devi scappare Devi scappare Vabbè scialla Mi ha preso così Metti Normale Dai, mettono difficoltà Normale Oddio, siamo lì No, no Oddio È due volte per uno No, no, no No, no, io non faccio Non lo faccio È due volte per uno Non l'ho fatto due volte Dai, sì Riccardo lo farà una seconda volta Intanto c'è un quadro bello Che facciamo? Come te pare? Basta che per me Sì, sto piano Prova Stavolta, si può aprire Eh, te pare che Ai, congratulazione Perché non mi hai chiamato Non ho bene Non lo so What? Perché non hai risposto alla mia chiamata? Perché hai fill Ah, io non so niente Perché hai fill Perché sono disconnesso È finito il gioco Sì Bella Adesso tocca le spalle No, no, no Non ha fatto Certo Ma apro io Pure con la porta Non vado No, dai Non l'ho fatto a Bauri Oh, a Bedi Siamo ridotti Stavo giù il brillantino Mi sa che solo te Io venti Solo quando giochi di sorveglia A me è proprio quella che è A me mi ha chiesto 10 No, non è vero Oh, guarda l'occhio, l'occhio Guarda la Q Sta giù Sta giù Ok Quindi vai su Di ciò paura Dai, scappa, scappa Corri Entro 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 Esco da là Esco Esci Ti è in culare È rimasto fermo Non riuscivo a aprire la seconda porta Vado a girare gli intorno Siete, regà Non ci abbiamo fatto Quindi due capelli E quindi basta Vabbè, ragazzi Se questo è il mio episodio Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Ricomando Ti avrei già fatto un'altra volta No, ragazzi Seriamente perché Non ce la facciamo Quindi bella